Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Vogliamo fare iscrizioni allora per quelli abbonamenti? Sì, mi dica il suo codice fiscale. Va bene, adesso gliela prendo subito. Allora, eccomi qua, pronta? Sì, sì, dimmi tutto. Ok, inizio. Seia. No, riesci a farmi lo spelling delle parole? Ah? Come A biancona. Va bene, ok, capito, capito. Inizio con prima lettera. M. S di scupare. Come, scusa? Sì, insomma, pulire la pertera. Ah, S. Sì, capito. Ok, ok. Dopo A per... Ah, capito? Signore, l'ho appena detto A di Ancona. Attenzione a questa. Mea. Motherfucker. Oddio, ok, ok. Allora, zeta. Zeta, zeta. Come? Zeta? Sì, esatto, esatto, zeta. Aspetta, c'è un altro Mea. Sì, dimmi. Mercedesi. Capito? Ok, manca l'ultimo. E. E vai fanculo. A lei, signore. Perfetto, adesso mancano le numeri. Serve che te la faccio qualche verso o basta che te la dico?